Mentre nel Sagno la curva dei contagi si conferma in calo, si registra un altri tre decessi in ospedale, se nelle ultime 48 ore, bilancio pesante nei reparti Covid del San Pio di Benevento. Non ce l'hanno fatta una 65enne di Montesano sulla Marcellana in provincia di Salerno, un 79enne di Pietrelcine, un 77enne di Popisi. Sono quattro invece nuovi ricoveri, ma ci sono anche cinque dimissioni. Passa da 65 a 61, è il dato complessivo dei pazienti positivi in degenza, mentre sono 297 nuovi casi nel Sagno, ma aumentano i guariti. La situazione va lentamente migliorando, negli ultimi giorni l'incidenza è più o meno costante, però il dato buono di oggi è che negli ultimi giorni sono molti di più guariti rispetto ai nuovi positivi, quindi questo ci fa stare un attimo più tranquilli. I positivi in questo momento sono 5.000, guariti è un numero che viene aggiornato giorno per giorno. Per le vaccinazioni invece da questa settimana, se tornate alla formula Open Day, diminuiscono gli accessi presso gli hub, ma resta alta la percentuale di persone che hanno aderito alla campagna di immunizzazione. Abbiamo fatto circa 1.000 vaccini nei primi giorni di Open Day, siamo oltre il 90%, quindi siamo tranquilli da questo punto di vista. E diminuisce anche il numero di classi in DAD. Da lunedì veramente abbiamo una diminuzione costante, i dirigenti si sono confrontati con la mia dirigenza, quindi abbiamo attuato quello che è il nuovo DPCM in modo da continuare questo lavoro di stretto contatto tra ASL e dirigenza scolastica.